Andavamo in campagna, in risaia anche più che altro, in risaia dei branchi di 100-150 donne fino nel bolognese, bicicletta e poi qualcuno rimaneva a piedi. In risaia no, non avevamo degli ordini come Zapp, uno sui manubri e una bicicletta a mano. Invece quando andavamo da Lanzoni, là dietro all'argine circondario, con delle strade con dei buchi, non è mica come adesso, anche di là, il circondario della valle era la roba della Lanzoni, la mamma, il babbo della soresa. Andavamo la in dei branchi di 100-150 donne, tutti in bicicletta. Allora Enzo aveva il motorino, i primi motorini che venivano, come era chiamato? Beh insomma, beh un motorino e non ricordo neanche più. Allora ha detto perché non prendi anche Paolo e Paolo, Sergio mio figlio, perché mamma non poi con il motorino andare fino là? Ce n'erano due o due o tre con i motorini, tutti in bicicletta, perché allora c'era ancora poco, poco soldi. Allora ho paura col motorino, andavo qui, ci si andava via con la zappa, il ronchetto, lo sghetto, tutte quelle arnesi lì, due o tre, li infilevamo nella sport e venivano a casa di bicicletta. Allora provo. Nel venire a casa quella volta che ho provato, sono arrivato da piedi, poi ci pensavo, ma se io rimango a piedi, ma come vuoi che mi prenda su? Ma non mi prende, non mi capisce nessuno eh? Ecco allora in bicicletta è rimasto a piedi, perché lasciavamo anche le biciclette molto lontano, due o tre chilometri, perché c'era la carriera tutta di fango e non c'era mica quello che c'era. E allora l'elda Baldratti, camminando, ha perso quelle poche scarpe che aveva, non le ha trovate, tanto che no, si è arrivato su in strada e poi quando siamo arrivati su, che siamo partiti tutti in branco, due o tre, avevano le biciclette sgonfie. Anche lì io ho caricata una, perché dopo c'era la strada un po' più buona, non tanto più buona, e una sul manubrio e una bicicletta a mano, e altre due o tre, perché c'erano quattro o cinque con le biciclette sgonfie, che stavano al sole, oppure qualcuno faceva qualche sgarbo, e allora facevamo quelle belle cose lì. Poi ridevamo perché eravamo contente, perché cantavamo e venivamo a casa, eravamo felici perché lavoravano. Cantare, quando stava lavorando, bisogna stare lì e badare lì, ma solo che aveva il tempo. Poi quando andavamo a lavorare, subito dopo pochi anni della risaia, andavamo via con lo sport da mangiare, hanno cominciato dopo tanto tempo a dare la minestra nel bolognese, con un mezzo vetto di mortadella, e quando andavamo a mangiare era piena di formiche, mangiavamo tutto lo stesso, quando andavamo anche a pulire il riso dentro l'acqua, prendere via il riso, e quando andavamo in settembre, tra settembre e ottobre si cominciava a mietere il riso, allora andavamo a mietere il riso, perché adesso vanno con le macchine, ma allora andava tutto con la faccia, e la cantavamo, ridevamo, siamo contenti, era una cosa bellissima, adesso invece no, non è più così.